Poi ci hanno portato in questura, ma me e Fabio ci hanno fatto uscire soltanto stamattina e Nadia non ce l'hanno fatta più vedere. Ma la droga cos'era? Era la tua erba? No, no, sembrava cocaina. Tanta. E le brulle sono da Nietzsche? Non lo so, non lo so. Nadia la fanno tornare a casa. Cosa vuol dire non lo so? Non lo so. Cosa vuol dire non lo so? Dove sono le brulle? Ma non c'erano ieri le brulle. Ho provato a chiamarle, ma non mi hanno risposto al telefono. Poi ho provato a chiamare anche Nietzsche e non mi ha risposto neanche lei. No, allora, non va il mio telefono. No, per la mia mia. Ma avranno approfittato del fatto che non c'eri, no? Avranno, non lo so, qualcosa del genere. Sanno andate là per evitarti. Che cazzo ne so? Ma Nero, ma come hai fatto a perdertele? Ehi, stai tranquillo. Le ragazzine si trovano, tranquilli.